Le pompe di calore sono in grado di trasferire l'energia presente in natura all'interno degli ambienti scaldandoli quando è freddo e raffrescandoli quando è caldo. Così come un frigorifero domestico sottrae calore dagli alimenti per mantenerli freschi, disperdendolo nella cucina attraverso la serpentina posta sul retro, allo stesso modo la pompa di calore sottrae energia dalla terra, l'aria e l'acqua trasferendola all'interno degli ambienti sotto forma di calore per il riscaldamento invernale e l'acqua calda sanitaria. Il mercato degli impianti a pompa di calore offre un'ampia scelta di prodotti per tipo di fluido, aria o acqua, per terminali in ambiente, unità interne, ventilconvettori, radiatori o riscaldamento a pavimento e per contesto di applicazione, case indipendenti, appartamenti, condomini. Gli impianti inoltre si integrano facilmente con altre tecnologie rinnovabili come il fotovoltaico o il solare termico. Scegliere un impianto a pompa di calore significa dotarsi di una tecnologia moderna che fa risparmiare e accresce il valore economico dell'immobile aumentandone la classe energetica.